Ciao Gnappofamily, sono tornata con un altro video e finalmente un nuovo Get Ready With Me Vedevo racconta un sacco di news, quindi mettetevi comodi e io direi di iniziare a avviare il nostro trucco molto battonico E con la scusa vi faccio dei prodottini che mi sono arrivati e che voglio testare Cioè in realtà li sto già testando, però insomma ve li voglio far vedere all'azione Allora come prima cosa ho applicato questa crema che si chiama Purity della Mesauda, riequilibrante opacizzante Dopodiché, dopodiché, andiamo ad applicare il fondotinta e stick della Mulac, la mia tonalità è la 04 Prima vado a mettere l'olietto fantastico, mi sta a piacere in botto, sulla loro spugnetta E questo è l'olietto illuminante che si chiama... Oddio, sono pure ciecata Ci credete che in tutto questo tempo non ho mai letto il nome? Vabbè, l'olietto loro Io che faccio? Prima metto il fondotinta Come vedete Già lo sto usando, eh Io prima metto il fondotinta Su la faccia Così a moda indiano A UG A moda indiano, insomma Uuuu Mi metto tanto perché, sapete, a me piace proprio il mascherone finto Bene, non ci facciamo mancare niente E poi con la spugnetta bagnata Vado a sfumare E a stendere il fondotinta Allora Non so da dove iniziare Forse inizierò dalla domanda Più richiesta su Instagram Mia, perché non hai più le unghie? Ma in realtà Chi mi segue qua su YouTube Già lo sa Perché non ho più le unghie Purtroppo E niente C'è avuto un'infezione Al dito E Mi è venuta L'onicolisi Cioè magari sapevate che c'avevo l'infezione E non vi avevo detto che era L'onicolisi Che praticamente Si è scollata l'unghia Dal polpastrello Si chiama polpastrello Vabbè Si è scollata quest'unghia È una cosa terribile Schifosissima La sto curando E L'unghia mia Piano piano Sta ricrescendo Quindi Nonostante io la stia curando Quella parte Che si è scollata Piano piano Si fa sempre più piccola Perché se ne sta andando E io spero che entro un mese Ritorno a farmi le unghie Però qua ve lo dico E lasciamo questo video Come testimonianza Mai più le unghie lunghe Nonostante Cioè sapete Il mio amore Per il mondo buttons Mai più le unghie lunghe Ho sofferto troppo Col dolore Cioè è stato atroce Raga E se penso che Ne so Mi dovessi rifare L'unghie lunghe Mi rispacco un'unghia Cioè io mi sento male Quindi mai più Unghie lunghe Nella serie Meglio averne poche Che niente Quindi mi farò Una lunghezza Modesta Non sono solita Usare le spugnette Dico la verità Infatti c'è Raramente Vedete Sto spellanato Raramente Vedete che uso spugnette Perché Non mi piacciono a me Però questa A me sembra Abbastanza buona Adesso Ho steso il fondamento Da per tutto Nei punti Magari un po' più critici Che io ritengo critici Lo picchietto Un pochetto Così non lo trascino via Dovrei imparare A fare dei tagli A questi video Perché Vengono troppo lunghe E poi mi strillate Sempre Voi avete già fatto Il cambio stagione Fatemelo sapere Perché a me sta pian colpa Pensate che devo far cambio stagione Cioè in realtà Ancora diluvia Quindi c'è Voglio dire Abbiamo del tempo Però Per quanto può diluvia Sempre caldo fa Quindi c'è Rimaniamo un attimo Con la cosa Cambio o non cambio Cambio o non cambio E sono andata a prendere Il mollettino Su sti capelli Penso c'è un casino Qua c'è la schiuma Spuma Schiuma Qua c'è orgella Sua frangia C'è la lacca Perché c'è il boccolo Ma ho fatto peggio Qua c'è Sti tu fiocchetti Sti tu fiorellini E mi sono venuti Qua riarzati Che paro Mezza Sailor Moon Non lo so Vabbè Comunque Mi sonna mette La cipria in polvere libera De Mulac Quella gialla Che è La nuova uscita Quell'altra 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 ancora Non l'ho provata Ma sono andata diretta Sulla gialla Perché C'ho un amore Spassionato Per le polveri gialle Abbondo Perché Io ho la pelle Grass Nonostante Io Mi impegni A usare Prodotti Per la pelle Grass Grassa Grassa Rivale Quindi Abbondo Abbondo Mi piace un sacco Sta polvere Soprattutto Per l'odore Non so Che mi ricorda Però C'è un odore Che io ho già sentito Ok Ora tutto qua Non lascio pieghe Ok Non so se ci avete fatto caso Sì dai Sono una fallextension Alle ciglia Cioè Io Felicissima Felicissima Che non potete capire Tanto vi faccio Le sopracciglia Ecco Stamadina Qua De Essence Che mi sto Trova benissimo E' la super last 24 ore Eyebrow Pencil Waterproof C'è un po' La punta stondata Non saprei come Temperarla Però vabbè E niente Mi sono trovata Benissimo Da sta ragazza Ha fatto L'effetto Russia Russian Russian Non so come si dice Vabbè Avete capito Ma ha fatto Questo effetto Russia Che è quello Proprio Pieno 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 Che mi piaceva A me Fa conto Che a settimana Sì a settimana scorsa Il mese scorso Sono nata da un'altra Fammele Cioè tutti Ah è brava è brava Lavori spettacolari Gli porto la foto Di un suo lavoro Gli dico Le voglio così Che erano più o meno così Ma ha messo Tre peli in croce Effetto naturalissimo Io scioccata Ho detto Non ci andrò mai più Ma non che erano brutte Perché c'è Però se io entro E ti chiedo una cosa Tu me devi fa quello E quindi niente Tant'è che manco Ve ne siete accorti Ma la cosa divertente Non è che ve ne dovevate accorgere Per qualche motivo strano Nel senso C'ho sempre Sia finta Ve ne dovevate accorgere Mi sono pure strozzata Ve ne dovevate accorgere Perché sono stata Due settimane Con delle ciglia Molto naturali Che Non fanno parte di me Ovviamente E quindi niente Vabbè ho trovato Sta ragazza E è bravissima A mio avviso Sono rimasta Veramente contenta L'ho trovata Per caso su instagram Perché l'aveva fatta A mia cugina E Niente Mi sono innamorata Cioè sono veramente Troppo Belle Se volete Visto che so Che sicuramente Me lo chiedete poi Nei commenti Ve lascio Qua da qualche parte Il suo profilo Instagram Così andate a vedere Che bei lavori Che fa Fatemi sapere Voi Se vi siete mai fatte Le station Alle ciglia E qual è il vostro Effetto preferito Se Un effetto Tipo quello che c'ho io Molto Ha ha Ho un effetto Naturale Comunque io so Perché avete aperto Questo video Perché volete Che io parli Del traslogo E siamo arrivati A quel momento Prima vi spiego Che cosa faccio Sugli occhi Così Non perdo Il filo Del discorso Allora Non so Che cosa farò Sugli occhi Ma so Per certo Che userò La Uda Beauty E la palette Di Kat Von Nee Cioè Io mi sono innamorata Desta Uda Beauty Udi 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 Desta Uda Beauty Udi Udi Parte l'hashtag Rega me prego Udi Desta Uda Beauty Cioè Veramente Veramente Bella Non so che colori Andrò ad utilizzare Magari ve li dico Alla fine Però Cioè Rega Mi sono innamorata Follemente E' troppo bella E Questa qua Per il nero E per il pan Sotto l'arcata Ok Questi già ve l'ho detto Il trucco Non so che trucco farò Quindi Vediamo Vediamo L'ispirazione Do me porta Intanto vado a mettere Il primer occhi Che è la Shadow Insurance Di Too Faced Allora Con il mio ditino Monco Applico qua Il primer Ok L'unica cosa Figa Di non avere le unghie Che posso prendere I prodotti in crema Tranquillamente E posso scrivere Molto velocemente Con il cellulare Però Preferisco Usare un pennello E andare lenta A scrivere un messaggio Piuttosto che Stacco il moncherino Ok Bene Allora Traslogo Storia curiosa Ed affascinante Soprattutto perché In tantissime Mi avete scritto Tipo Quando io vi ho chiesto Provate a indovinare Il mio regalo Di compleanno Tutte mi avete scritto No Cambi casa Cambi casa Io come ho sempre detto La casa ce l'ho E questa Questa è casa mia E Viene divisa in due Tipo Sotto C'è mia madre Ai due piani sopra Ci sono io Solo che So io Che decido Di stare con mia madre E non chiudere la porticina Perché so Mammona fracica E so morbosa E non mi vergogno A dillo Quindi non è che io Non ho casa O ha gente Che mi dice Vai a vivere da sola Sono io Che non voglio Vivere da sola Cioè È quella la cosa Vabbè comunque Tutto succede Che Mi zio Mi ha chiesto Di andare A sostituire Mi zia Perché è incinta E tra poco Partorisce Quindi Gli ultimi mesi Della gravidanza E I primi Mesi Dopo che nasce Il bambino Mi zia vuole stare A riposo Vuole godessere Giustamente Il fio Mi zio Mi ha chiesto Se la sostituisco A fare La segretaria Però Visto che Visto che Io piererei Il posto Di mi zia E comunque Il datore Del lavoro È il marito Io sarei Favoreggiata Nel senso Che Devo lavorare Tre volte A settimana Diciamo Io so Fa Su favore Solo che Il problema Dove sta L'ufficio È lontano Da casa mia Quindi Io Dovrei svegliarmi Molto presto Perché poi sono lenta Mi devo truccare Cioè non posso andare Non posso andare al lavoro Sciatta Quindi Quindi niente Vado Vado a Vado a Vicino All'ufficio Così la mattina Dormo De più E vado a Vive Con una mia amica Che in realtà È casa Della mia amica Lei Mi ospita Per questi mesi E magari Magari Della serie Amica mia Non vuole affitto Anche perché Poi è casa sua Non sta in affitto Manco lei Però giustamente Dividiamo La spesa E le bollette L'appartamentino È molto piccolo Però è carino Io ho già iniziato Questo traslogo Delle mie cose Ovviamente Non mi posso portare tutto E ovviamente Ogni tanto Ci ritorno a casa Quindi faccio un po' qui Un po' là Però ve lo volevo dire Uno per rendervi partecipi Della situazione Del punto Della situazione E due Per Per non stare a spiegare Che ne so Faccio dei video Nella nuova casa E mi chiedono Mia dove stai Cioè ve lo dico direttamente Mi sto Mi sto trasferendo Sto traslogando Quindi Avrò effettivamente Due case Vedete I video Un po' da qua E un po' da là Poi vi farò Se avete Insomma Piacere di vederlo Il tour Della casa Aspettate che io Mi vedo un po' lucidina Qua sulla fronte Ok Se avete piacere Io vi farò Il tour Della casa Che è molto Piccola Però insomma Regà Sarà una bellissima Esperienza Perché insomma Vivere con Con un'amica È sempre molto Figo Chi di voi Vive con un'amica? Allora Aspettate che prendo Fix Plus E bagno Un coloretto Bagniamo Celestial Vediamo che succede Wow Però no 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 Non sono Non sono da Celestial Oggi Assolutamente no Andrò a bagnare Blood Moon Non ho scureggiato Refx Plus Ragazzi Oddio L'ho preso troppo Vabbè Cioè Oggi proprio Battonica Ho deciso Ok Che poi La svolta È che Ti arzi La mattina E sei meno Cesso del solito Perché già hai le ciglia E fanno tantissimo Quando ti guardi Tu fai Ciao tesoro Buongiorno Ok Mi posso stare Tenta Non so Sai le ciglia L'unica cosa Un po' È la manutenzione Perché ho paura Di poter staccammele Però insomma La ragazza Mi ha detto Che io Le devo Struccare Solo Con l'acqua Micellare Tra l'altro Ce n'ho una Della Glinianza E mi sta Piacendo Un sacco Ho finito Quella Di Essence Ci avete da consigliarmi Una buona Acqua micellare Che avete provato Perché io Sinceramente L'avevo comprata Un po' Cheap Non mi ho presa Di cip L'avevo comprata Un po' Scrausine Perché non gli Davo un sordo Non gli davo Un sordo A ste acque micellare Cioè ero un po' Scettica Boh Mi sembravano Una mezza ciofega Però invece Mi stanno a piacere Un sacco De come De lasciano La pelle Poi mi piace pure Che possono essere Passate sia Sull'occhi Sulla bocca Ovviamente Su tutto il resto Del viso Bene ora Dalla palette Di Kat Von D Vado a prendere Ombrettino nero E vado a metterlo qua Dopo ovviamente Ve lo faccio vedere Più da vicino Questo trucco Perché Rottino Mi si è rotto Il coso Che tiene l'iPhone Cioè io ormai Avevo trovato La mia dimensione No Che c'avevo Sta specie De gancio Che poi Avevo fatto In qualche video fa Forse un po' Dei video fa E c'avevo Sto gancio rosa Che appunto Tiene l'iPhone Ed era fighissimo E comodissimo Io ho rotto il gancio Mo L'ho incollato Con il nastro isolante Infatti se vedete Ho cambiato l'inquadratura Mi sto a ripia Tipo da sopra No Però De solito C'avevo qua E Me lo devo Riordinare Io Dai cinesi Fatto così Non l'ho trovato Che Io l'avevo preso Su Aliexpress Sì ok L'ho pagato De meno Perché Aliexpress Costa tutto poco Dice vabbè Ho pita là Perché risparmi No avrei preso pure De più dal cinese Ma non lo trovo Fatto così Quindi Odoro ripia Da Aliexpress E mo Mi devo tenere questo Un po' rattoppato Quindi niente Mi sono improvvisata Un po' De Un po' Bob L'ha giusta tutto Quei gnappa L'ha giusta tutto Mi sono un po' Improvvisata E quindi niente Stiamo Messe un po' così Comunque a me Sto trucco Mi fa morire Mi piace proprio Ha usato una volta Sto ombrettino Ma l'avevo abbinato Qua altri colori Cos'ulto nero Qua un po' Un po' Tipo trucco De mina Che fai l'ovetto Qua sopra È fighissimo Mo te voglio sfumare Però è tutto a posto Tutto sotto Controllo Adesso vado a fare La linietta Qua Sempre con l'ombrettino Che Come voi sapete Ho abbandonato L'eyeliner Perché ho avuto Quella brutta infezione Agli occhi Io penso che Devo andarmi a fare Un viaggio all'urda Perché la sfiga Mi perseguita Ma nonostante ciò E nonostante L'emioroscopo In questo mese Sia una merda Noi non ci perdiamo D'animo Giusto? Giusto Mi sono risposta da sola Ok Prendo un marroncino Più scuro E vado a sfumare Questo marrone qui Questo marrone qui Questo nero qui Stavo a pensare Marrone perché Ve volevo di Prima i colori Che ho usato Però Prima sfumo E poi ve li dico Che poi In mo che ci penso Meno male Mi sono fatto a sto trucco Perché stasera C'ho un compleanno Penso E questo è il periodo Tipo mio dell'anno Dove c'ho tutti i compleanni Tutti attaccati Quindi tutti i giorni Si fa festa Ok Dopo Mi controllo bene La sfumatura Perché c'ho la luce Solo di qua Quindi di qua Vedo un po' più Offuscato Allora Vi spiego un attimo Che ho usato Ho usato Su tutta la palpebra Desert Sand Che è il nude Poi Nella piega Mask Che è sto marroncino E poi ho usato Blood Moon E gli altri Insomma Dell'altra paletta Li avete visti Ora riprendo Il pennellino A lingua di gatto Col nero Faccio un po' qua Così Fino a una certa Fino a una certa Potrei mettere Mascara Ma boh Preferisco Non metterlo Perché il mascara Merita tantissimo L'occhi Quando mi vado a struccare Mentre l'ombretto Con il fatto Che è polvere No Ok Lo è qua Fino a una certa Ovviamente Se rifate il trucco Voi che potete Mettetevi il mascara Sfumate Un po' Tipo a me piace Un po' Zuzzato sotto Tipo un po' Effetto panda Come se faceva I trucchi Britney Spears Ai tempi d'oro Capito Questo ombretto nero Qua Zuzzato Che fa Morto One Sgen Direi Trucco Occhi Terminato Al massimo Ripasso Un po' L'oro Per definirlo L'oro Rame Cazzo Ok Che tra l'altro Sto rame Riprende anche I miei fiorellini E l'ultimo colore Vado a mettere Un colore chiaro Per andare A dare il trucco Qua Scusate Io ho l'aeroplanino Su quel telefono Per non interferire Con lo Zzz del video Perché Io mi arrivano i messaggi Voi spiegate Perché Allora Terra di MAC Diventata la mia preferita Sculpt Pennello Beige Super Contouring Super Contouring Ok Contouring Fatto Pallina Sul naso La mia amata Pallina Che c'è Chi la ama E chi la odia Io la amo Se no Vuoi che dite Ma la facevo No Comunque Cioè Sto presa benissimo Per questa nuova casa Per questa nuova avventura Che mi attende E E niente Ho già comprato Tutti Tutti Accessori Per la cucina rosa La mia amica È una molto sobria Quindi Non aveva cose rosa Ma l'ho preparata Psicologicamente E accettato Ho detto Mi casa E stu casa Quindi È andata Ho comprato anche Un mini barbecue Oddio C'è un pelo nel naso Ah È il capello Ho comprato anche Un mini barbecue Solo perché Faceva figo Sul balcone Io Savate Non mangio carne Cioè Magno Stretto necessario Veramente poca Perché non mi piace Però Mi mangio Le pannocchie Cevolo fa Le pannocchie Quindi vabbè Comprato sto mini barbecue Sto presa benissimo Vi farò Il tour Della casa Così vedete Anche che cosa Mi sono portata Perché ovviamente Posso portare poche cose Perché La casa È piccola Mi vado a mettere Il blush Che ho preso All'outlet Che avete visto Nel video precedente Dei miei acquisti All'outlet Che tra l'altro Mi dà una lira A sto rosa Sfigatino Invece Ho fatto Affare del secolo Perché per due euro È veramente Molto bello E visto che sto Sto stata molto carica Sugli occhi Metto un blush Ciccettino rosato Perché mo vado a mettere Una tinta labbra Mesauda Extra matt Pavlona No Pavlova La 101 Pavlona Era da serie Tipo Pamplona Canzone Che era Dei Dei Cacoria Non mi ricordo Tinta labbra Messa Il look È quasi terminato Se non fosse Che manca L'illuminante Questa è Della Revolution Madina Almost Gold Cioè Mi piace un sacco Questo tono Di oro Oggi Per niente Sobria Anche qua L'hashtag Per niente Sobria Ok Sono Glamour Quindi Questo È il make up Il trucco Degli occhi È fantastico Mi piace Tantissimo E Qua Mi sta smosciata Il boccolo Calacca Sembra che C'ho unti Unti e bisunti Ma non è così Ve lo assicuro E Niente Vi sto a registrar Vlog Del traslogo E Sono felicissima Quindi Fatemi sapere Se Fondamentalmente L'argomento Traslogo Vi interessa Se volete Vederlo Questo traslogo Se volete Vedere La casa Poi Se mai Io e la mia amica Vi facciamo Suoda la spesa O Chi più ne ha Più ne metta E niente Io vi mando Tanti bacini Fatemi sapere Se il make up Vi piace Se avete provato Qualche prodotto Raccontatemi Semplicemente Che cosa State combinando Nella vostra Pazza vita Dico pazza Perché tutti Abbiamo una vita pazza E nessuno è normale Per fortuna Vi mando Tanti baci Ciao Ciao